Gianluca, Germinario, l'Abruzzo era un po' nel tuo destino per quello che è successo negli ultimi due mesi, la finale di eccellenza contro l'Aquila col tuo Chisola e ora la Proto al Pescara. Sì, diciamo che in quest'ultimo mese l'Abruzzo mi ha lasciato un segno nel cuore, perché non potevo sinceramente chiedere di meglio, a partire dalla finale di play-off, che mai pensiamo di fronte a uno stadio del genere, di fronte a tutto quel tifo, di fare una prestazione così. e precisamente un mese dopo arriva questa chiamata al quale io non potevo dire di no e che mi ha dato qualcosa nel mio cuore. Abbiamo sentito che hai detto che mi sono tremate le gambe. La mia prima reazione è stata proprio tremolio di gambe e mancanza di respiro, infatti lì per lì ho detto, una volta ricevuto la chiamata, ho detto datemi mezz'ora perché io non sapevo più cosa fare, però pensandoci poi, parlando con i miei genitori, ho capito che era qualcosa al quale non potevo negare. Chi ti ha chiamato precisamente? Mi ha chiamato Beppe Galli e ho ricevuto la chiamata da lui, nel pieno pomeriggio, era un venerdì pomeriggio, io ero in giro con i miei amici e quando mi è arrivata questa chiamata mi si sono illuminati gli occhi, sono volato subito a casa e in tempo mezz'ora l'ho richiamato e ho detto subito sì. Senti, sul ruolo, tu sei una mezz'ala però ci hai detto che lo scorso anno ho giocato quasi interamente la stagione da play. Sì, perché per mancanze del nostro play, che si era fatto male, mi hanno dovuto adattare in mezzo al campo come mediano, ma devo dire che come ruolo mi è molto piaciuto perché mi sono state date molte responsabilità e a me il compito di prendermi la squadra sulle spalle mi è sempre piaciuto e devo dire che mi sono trovato abbastanza bene e spero di aver fatto bene in quel ruolo. Sei di precisamente? Di Torino. Il tuo modello, io non so se sei Sponda Toro o Sponda Juventus, hai un modello? Juventus. Ma sei un Marchisio? Io il mio modello è sempre stato Marchisio, anche perché lui abitando Vinovo, noi in giro lo vedevamo sempre e quindi è sempre stato il nostro modello, potendolo vedere da vicino è sempre stato qualcosa di io vorrei essere come lui, quindi speriamo che in un futuro possa fare un minimo di quello che ha fatto lui nella sua carriera. Obiettivo personale di squadra per questa stagione? L'obiettivo personale è sempre quello di vincere come ogni calciatore che vuole sempre far meglio, il mio obiettivo personale è quello di poter sfruttare al meglio le opportunità che mi saranno date e l'obiettivo di squadra è ovviamente quello di poter vincere, voler vincere, qualsiasi cosa si possa vincere. Il gruppo com'è? Il gruppo è molto bello, mi sono trovato molto bene, mi hanno accolto bene fin da subito, quindi non potevo chiedere di meglio.